Si tratterebbe di sostituire una sola parola dell'articolo 14,1 dello statuto speciale della Sardegna, cancellare il termine escluso e sostituirlo con incluso in riferimento al demanio marittimo per consentire il passaggio del bene dallo Stato alla regione Sardegna. La proposta di legge elaborata dal deputato della Lega Dario Giagoni e presentata a Olbia davanti ad una platea composta da operatori del settore balneare e istituzioni, ricalca quanto già fatto in altre regioni a statuto speciale che gestiscono direttamente il demanio marittimo come il Friuli, Venezia Giulia e la Sicilia. Un disegno di legge che va a modificare l'articolo 14,1 dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna dove si chiede che la titolarità del demanio marittimo passi dal governo nazionale al governo regionale. Si parla di risorse importanti di quasi 10 milioni di euro che possono essere utilizzate dalla regione Sardegna per la realizzazione di servizi e oltretutto per creare un giusto biglietto da visita per la Sardegna e per i sardi. Attualmente la Sardegna paga di tasca gli interventi per l'erosione delle coste, oneri e pochi onori o meglio poche risorse che invece potrebbe incamerare qualora la proposta di legge diventasse legge in virtù della propria autonomia. L'iter è lungo, dopo il sì a livello nazionale la nuova normativa dovrebbe essere recepita a livello regionale. Nel 2019 una proposta simile fu presentata in regione da Michele Cossa dei riformatori. Giagoni la appoggiò allora come consigliere regionale e oggi nella nuova elaborazione come esponente del governo nazionale.